Nel campo sportivo comunale di Sant'Alessio con Vialone per via Carlo Davide Giampiero, Accademia Pavese, ospita il busto 81. A voi le formazioni, Accademia Pavese San Genesio. Numero 1 Vinaschi, numero 2 Losi, numero 3 Coppini, 4 Basotti, 5 Filadelfia, 6 Borato, 7 Oviano, 8 Maggi, 9 Zani, 10 Provasio, 11 Catania. A disposizione di Mr. Omar Albertini con il numero 12 Uganzio, numero 13 Avino, 14 Davenia, 15 Coscia, 16 Giugno, 17 Grossi, 18 Baruffi, 19 Castillo, 20 Foppa. Busto 81 con il numero 1 Monzani Andrea, 2 Nehimi Omar, il 3 Napoli Gabriele, 4 Mir Andrea, 5 Sorrentino Alberto, 6 Scarcella Paolo, 7 Panzetta Martino, 8 Silla Bubacare, 9 Torraca Giuseppe, 10 Maimer Solai, 11 Alzano Alessandro. A disposizione di Mr. Crucitti con il numero 12 Seitai Matteo, 13 Baio Ivan, 14 Mauro Matteo, 15 De Carlo Simone, 16 Clos Nicolas, 17 Pellini Daniele, 18 Urso Alessandro, 19 Passapiume Francesco, 20 Rossi Filippo Pietro. No! 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 Non abbiamo, abbiamo un po' di rotturaistine, non sono fac refere. i piedi grazie 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 grazie